Ciao a tutti, sono Fabio Marino e benvenuti nel nostro canale YouTube. In Best Team Investment troverai tanti contenuti free. Parleremo del mondo degli investimenti a 360 gradi, in particolare di Forex, grazie al nostro top trader Daniele Cabras, di opzioni binarie in collaborazione con Dario Candido ed io che vi terrò compagnia con tanti contenuti sul betting professionistico e su tanti business profittevoli, sostenibili, ma soprattutto testati da me e presenti sul panorama mondiale. Potrai crearti una seconda rendita operando nei posti in cui ti sarebbe sempre piaciuto vivere ed in particolare dedicando e pianificando maggior tempo con i tuoi bambini, la tua famiglia o perché no per i tuoi hobby. Tutto questo le persone che collaborano e ci seguono da tanti anni lo hanno già fatto, lo stanno facendo e lo faranno ancora. Quindi se non ora quando ti aspettiamo iscriviti sul nostro canale YouTube e ci vediamo all'interno. Ciao a tutti!